ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario defense vet fitoline vit l'italia spa ultimo aggiornamento 27 dicembre 2022 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia informazioni commerciali titolare vit italia spa concessionario vit italia spa confezioni defense vet fitoline 40 capsule formulazione composizione fosfato bicalcico rosa canina rosa canina l cinorodi maltodestrine 20 per cento magnesio stiarato involucro della capsula idrossipropilmetil cellulosa additivi echinacea angustifolia dc estratto di echinacea uncaria tomentosa l estratto di artiglio di gatto stabilizzante cellulosa micro cristallina agente anti agglomerante silice colloidale indicazioni defense vet è particolarmente indicato in tutti i casi in cui l'animale può presentare un abbassamento delle difese immunitarie ad esempio in caso di forti stati di stress o durante i cambi climatici stagionali può essere somministrato come coadjuvante per limitare gli effetti collaterali dei farmaci posologia si consiglia di somministrare le capsule tal quali eventualmente nascondendo nell'interno di bocconi di cibo in alternativa è possibile aprire le capsule e miscelando il contenuto omogeneamente ad un alimento appetibile nel caso si volesse unire a mancimi secchi pelletizzati è consigliabile inumidirli con un po di acqua per garantirne l'aderenza dosi consigliate si consiglia 1 capsula al giorno per gli animali sotto i 20 kg oppure 2 capsule per gli animali di taglia superiore fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato